Gargantois e Pantagruele, libro primo, capitolo trentaduesimo. Come qualmente grangola, per ottener pace, fa restituire le focacce. Quando il buon galletto si tacque, Picrocolo, a tutti i suoi argomenti, altro non rispose se non Veniteli a prendere, veniteli a prendere, hanno bei coglioni e molli, v'ammaniranno focaccia. Tornato galletto a grangola, lo trovò in ginocchio, chino a capo scoperto, in fondo alla sua camera, pregando Dio che volesse calmare la collera di Picrocolo e ricondurlo alla ragione, evitando si ricorresse alla forza. Quando vide, il buon uomo di ritorno gli domandò Ma, amico mio, amico mio, che notizie recate! Va tutto alla rovescia, disse galletto. Quell'uomo è forse nato e abbandonato da Dio. Ma, insomma, amico mio, disse grangola, con qual ragione giustifica i suoi eccessi? Nessuna ragione mai esposto, solo disse con collera qualche parola sulle focacce. Non so se sia stato fatto il traggio ai suoi focacceri. Voglio ben chiarire la cosa, disse grangola, prima di deliberare il da farsi. Allora chiese informazioni sulla faccenda e trovò per vero che erano state tolte delle focacce alle genti di Picrocolo e che Marchetto aveva ricevuto una randellata sul capo. Tuttavia, che il tutto era stato ben pagato e che Marchetto per primo aveva ferito Forcher con una frusta alle gambe. Il consiglio unanime fu di parere si corresse alla difesa con tutte le forze. Ciò nonostante, grangola disse. Troppo mi incresce Moverguerra e poiché non si tratta che di qualche focaccia procurerò dargli soddisfazione. Si informò dunque quante focacce erano state prese e sentendo quattro-cinque dozzine comandò se ne fabbricassero cinque carrettate in quella notte stessa e una carrettata fosse tutta di focacce confezionate con bel burro, bel tuorlo d'uovo, bel zafferano e belle spezie. Questa per Marchetto, al quale, come risarcimento, dava inoltre 700.000 tre filippi per pagare i barbieri che l'avevano curato e come sopra più la masseria della Pommardier, franca da gravami per lui e i suoi a perpetuità. Per condurre il tutto fu inviato a Galletto il quale per via fece cogliere presso la sul sé molte belle canne e ne fece adornare carrette e carrettieri e gli stesso ne prese una in mano volendo mostrare così che solo pace cercavano e andavano a chiederla. Giunti alla porta chiesero di parlare a Picrocolo da parte di Grangola. Picrocolo non volle né lasciarli entrare né andare a parlare con loro, mandò a dire che era occupato ma che esponessero ciò che volevano al capitano Toccaleone che stava affustando alcuni pezzi sulle mura. Il bravo Galletto così gli disse Signore, per metter fine a tutto questo conflitto e togliere ogni pretesto di non tornare alla primitiva alleanza siamo venuti a restituirvi le focacce onde sorse la controversia. Cinque dozzine ne presero le nostre genti e furono ben pagate ma noi tanto amiamo la pace che ve ne restituiamo cinque carrette delle quali questa sarà per Marchetto che più si duole. E di più, per soddisfarlo interamente ecco settecentomila e tre filippi che gli consegno e per gli interessi che potesse pretendere gli cedo la masseria della Pommardière in possesso a perpetuità per lui e suoi Franca da gravami. Ecco qui il contratto della transazione. E in nome di Dio viviamo d'orinnanzi in pace e voi ritiratevi nelle vostre terre lietamente lasciando libera questa città alla quale non avete alcun diritto come riconoscerete e amici come prima. Tocca Leone riferì tutto a Picrocolo ed eccitò a vie più l'animo suo dicendogli hanno una bella paura quei tangheri quel povero beone di grangola se la fa addosso per Dio a vuotar fiaschi a quello sì che è bravo ma a guerreggiare non è affar suo. Io sono di avviso che ci teniamo focacce e filippi e quanto al resto affrettiamoci a compiere qui le fortificazioni e a proseguire la nostra impresa. Ma pensano forse davvero a fare con un minchione volendovi rimpinzar di focacce? Ecco l'effetto del buon trattamento e della grande familiarità con la quale li trattavate prima. Vi spregiano Ungi villano ed ei ti punge Pungi villano ed egli ti unge Su 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 disse Picrocolo Per San Giacomo sapranno chi sono fate ciò che avete detto D'una cosa disse Tocca Leone voglio avvertirvi stiamo maluccio a vettovaglie e magramente provvisti di munizioni da bocca se Grangola ci assediasse andrei senz'altro a farmi arrancar tutti i denti meno tre a me e alle vostre genti con tre ne avremmo d'avanzo per i viveri che abbiamo Di viveri ce n'è anche troppo disse Picrocolo siamo noi qui per mangiare o per battagliare? Per battagliare per battagliare rispose Tocca Leone ma dalla panza viene la danza e dove fame sta la forza se ne va e quante ciance disse Picrocolo impadronitevi di ciò che hanno portato presero dunque danaro focacce buoi e carrette e rinviarono gli uomini senza altro dire se non che dall'ora in poi stessero a rispettosa distanza per una buona ragione che avrebbero detto loro l'indomani e quelli a mani vuote tornarono a grangola e gli raccontarono tutto aggiungendo non rimanere speranza alcuna di indurre a pace il nemico se non con fiera e forte guerra ti è piaciuto il video? allora metti like sostieni il canale è sufficiente un semplice like vuoi farmi sapere cosa ne pensi? lascia un commento ti risponderò anche questo può aiutare il canale e se ti è piaciuto questo audiolibro iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti